Siamo arrivati a un accordo amico, ma il testo è buono, James Clontagno ha detto che è il testo, ma cosa passa dopo che non cambia, non so come sa, dubbi naturalmente un ticchi, ma non so se è un problema interno del governo, non so che firma i sacchi, ma non so che cosa è, non è primitivo, non so se non si sente, ma non si arriva. In teoria come organizzazione non siamo, non abbiamo bisogno di fare una decisione, e noi abbiamo deciso di forzificare, abbiamo pubblicamente, ma siamo personalmente, naturalmente, in primo luogo. Se non è il caso, 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 è il caso. Che sai? No, è il caso, io vorrei già sapere, è questa, è questa, è questa, non preferenze, però ora è non a comprendere la situazione, se non è un ordine per fare il terreno, non non può andare a il terreno, per un o altro motivo non è importante in un sistema di patronage per andare a andare, in teoria c'è un tipo di corruzione o bisogna un amico di partito, non è un tipo di corruzione, non è un tipo di corruzione, ma non si che per il dirige, ora non sia un momento che cosiddetto, non è un problema che è un sistema, non è un problema so che si può andare a capire il terreno, è un governo, ma se non può andare a fare un risultato a un accordo amical, non non è un accordo, però noi vogliamo una soluzione per la situazione che non si tratta di un futuro che si tratta. Quindi abbiamo visto una cosa più vicina, ovvero i fonsi e anche ovvero il futuro. Però abbiamo realmente due problemi. Abbiamo una cosa rivalista che è del siglo passato, anche naturalmente, il mondo in un siglo passato non ha mai visto la vita, ma non lo sa. Logicamente, il mondo non si tratta, magari non c'era un caso, magari non si tratta, magari non si tratta, ma non si tratta, ma non si tratta, ma non si tratta, ma non si tratta. Quindi non solamente due o tre anni, ma non si tratta di più di anni, magari 30 anni, quello è molto male. Quindi, se noi abbiamo una soluzione, abbiamo due cose. Abbiamo gente che arriva in una lista di guardia e abbiamo un futuro. Un governo deve avere una decisione di un futuro. Potremmo decidere, dovremmo fare un nuovo gestione. Potremmo vedere come un cittadino o no. Perciò che il popolo vota per noi, non c'è un... Però, la realtà è anche che non si tratta di più di l'Ulanda per avere un gestione. In mio opinione, non è buono. Compremmo? Perciò che non si tratta di più di un accordo amico. Se il nostro paese ha avuto la lista di spera, quindi non si tratta di più di 31 di dicembre 2022. Ok? Quindi, per l'anno, non si tratta di più di un accordo amico. Sì? Sì? Però... No stanno... Stanno in un futuro. E' importante per il pubblico, con il futuro, probabilmente lo ti va a fare. Sì? Stanno malissimo!